Musica Eeeh Ciao ragazzi sono Zero e oggi siamo su Battlefield Hardline Oggi siamo sulla beta di Battlefield Hardline Pronti per un primissimo gameplay di Battlefield Se ovviamente vi piacciono i gameplay che faccio con questo gioco Battlefield Ditemelo e comprerò il gioco originale che uscirà non so fra quanto tempo Ma comunque questa è una beta quindi credo che tra un po' esca Non lo so E quindi apprestiamoci a cominciare questa demo, questa beta E io vi avviso che questi giochi faccio cagare proprio come Non so, cioccolato sul kebab Cazzone E quindi cominciamo con Facciamo una rapina Le rapine, allora sono tre tipi di modalità La rapina in cui dovete essere o poliziotti e dovete difendere la base Dove rapina Dove c'è i nemici che rapinano Oppure proprio i delinquenti che devono rapinare ciò che c'è nella banca Poi c'è il cortocircuito in cui una fazione deve guidare la macchina più veloce dell'altra Senza motivo così E deve vincere, ok? E l'ultima invece che sarebbe una specie di free mod In cui tutti i poliziotti combattono contro criminali E si uccide una vicenda proprio in modo brutale Brutesco e sto cazzo Ma, ma prima di tutto sciamoci a nostra bella classiciola E dopo 26 secondi partiamo Ok, eccoci qui ragazzi Siamo pronti quindi a cominciare questa beta Con il nostro caro Nigo qui Che cazzo è successo? Non mi sbugare così davanti Mi fa mettere paura Lì c'è qualcuno ragazzi Vediamo che c'è qualcuno Eh, che quale è morto da solo Eh, condoglianze Che cazzo è? Bug, lag Non ho capito un cazzo Qui c'è qualcuno Qui c'è qualcuno Ok, l'ho mancato Come è giusto che sia No, la bomba Ok, ok, ok Sono salvo Ma perché lagga così? Ma, ok Va benissimo Sono morto Spaniamo addosso a questo tizio Così, per sfizio Eccomi, sono sbucato Che poi non capisco il senso Di spawnare su un tizio Ah, scusatevi Permesso? Un momento, mi carico l'arma Pensaci tu amico mio Vedo che hai un bel fucilone Grazie Possiamo correre No, non possiamo correre Alla sbagliata strada Ma non mi vedono Cioè, fammi capire Ma che cazzo Ok, mi scusi? Ecco, l'ho uccisa però Che cazzo è successo? Granata Sprecata Ok, l'ho ucciso? L'ho ucciso Incredibile Sono una bestia Sono riuscito a uccidere una persona Adesso sì che mi sento fiero di me stessa Aspettate Ecco Mamma mia Peggio di Hulk Possiamo passare da altre parti A quanto fa Chi è? Ah, nemico Merda, era un nemico Ok, scegliamo un'altra classe Ovvero attrezzatura Meccanico Ah sì, ci sono ovviamente anche Quattro classi L'operatore Che sarebbe quello con Metraiettore grande Pistole E granate Classico Diciamo Poi Questo qui Che non mi ricordo come cazzo si chiama Meccanico Non ho idea E aspettate un attimo Ok, ritirata Questo qui che diciamo che è più bilanciato Tatticamente Oh mio zio Quanti cazzo ce ne sono lì giù Granata a caso Ne colpisco qualcuno Manco uno Mannaggia Ok Mi hanno menomato una gamba Che tristezza Vabbè Comunque Dicevo Ci stava l'operatore Che era quello classico Il meccanico Che è appunto Questo qui con L'MP5 Il 38 Snoob E roba varia Poi c'è l'assassino Che ha il fucilone Una pistola E granate E infine Il professionista Cioè il cecchino Il classico cecchino Con cecchino Pistola E granata Frammentazione Ma noi andremo sul meccanico Perché meccanico È la classe più adeguata Perché il mitra Pesante Di solito Dove cazzo stanno Permesso Io vorrei strisciare Ma non così tanto Ok E che cazzo era quello Dicevo che Il Io scelgo appunto il meccanico Perché è quello più bilanciato Tra tutte le altre classi E Perché il mitra pesante Spara troppo Uh salve Ma che cazzo Va bene È troppo gotico Questo gioco ragazzi No comunque perché Il mitra pesante Spara troppo a raffica E quando spari troppo a raffica Il mitra salta Quindi La mitra fa schifo Invece questo qui è più bilanciato Perché non fa troppi danni Però Non salta Questo è l'importante Ma proprio A bastardo tu eh Respawni sotto le Sotto le scale Fantastico Dammati camper Allora Dobbiamo difendere La valigetta Perché ovviamente Siamo i Poliziotti E spacchiamo Metrine Vai vai Spacco metrina Oh mio dio Quanti nemici Ah Che culo Pensavo fossi aperta Oh mio dio Ragazzi Io sparò l'elicottero Oh ma salve Lei non mi ha visto Per caso Vero No Lei non mi ha visto Ecco Ok Era logico Che mi uccidessero Ah Quando attaccate Mi raccomando Non attaccate mai Da vicino Perché ci mette 57 anni Ad attaccare Corpo a corpo Quindi Vi raccomando Mitraiettate tutti Anche se i proiettili Scarseggiano E vediamo un po' La nostra arma speciale Cioè Questo bazuccone Che spariamo Ecco Granate a caso Perché a noi piace Sparare granate a caso Guardate Attentamente come faccio Saltare camion inutili Che sono lì Proprio perché L'hanno messi Ecco Non ne ho beccato neanche uno Sono un pro della madonna Ma non mi Oh l'ho ucciso Ho ucciso una persona Questo è il giorno Il giorno più bello Della mia vita Il giorno più bello Della mia vita ragazzi E entriamo nel fuoco No Oh salve Noi ci abbassiamo sempre Perché Buongiorno Oh no Chi altro è Dove Quando Sono ancora vivo Che culo Ti aiuto io Avrai supporto da lontano No è morto Vabbè Vai aiutami Dannato Spara Spara Ok l'ho ucciso Boss proprio Mamma mia E abbiamo vinto No abbiamo Tre uccisioni Sette morti Ragazzi Non potete dire Che non so giocare Perché io I punti parlano da soli Ragazzi Non potete obiettare Ovviamente In questa beta Si possono cambiare anche Le armi Modificarle Comprarle Con i soldi E possiamo avere Dei veicoli personali Posso essere su aerei Tutte cose fighe Però questa volta Stiamo provando la rapina Poi Ditemi voi Se vi piacciono Questi gameplay Facciamo anche Non so Deathmatch libero Cioè Quello lì Conquista in grande Si chiama Oppure Facciamo altre cose Varie Siamo I criminali Io vi dico la verità In ogni partita Che sono andato Sempre perso Non ho mai vinto una partita Non avevo fatto i 5 o 6 Ma va bene E Lì ci sono gente C'è gente No 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 Aspetta scherzavo No non c'è gente C'è C'è Mastrolindo Lo sgrassatore No no Non lo vogliono Va bene Non vogliono lo sgrassatore Lancia bomba Vai così L'ho lanciata a casa Hey It's me Mario No Non sono Mario Sono zero No Oh cazzo Una bomba Mi sono salvato a culo Che sta succedendo lì Io fumo Non mi fido di questa gente Poliziotti dei miei coglioni Ok Lug È laggetto tutto Vabbè Un headshot Mi hanno Rambo Rambo mi ha headshotato Lui ha il kit medico addosso Chi ha il kit medico addosso Può curare gli avversari Avversari il ca Può curare gli amici Oh mio dio Quante ce ne sono L'ho ucciso L'ho ucciso Di questo ne vado fiero No Comunque Dicevo Chi ha il kit medico addosso Può ovviamente Teletrasportarsi lì Ad esempio come questo tizio qui Vedete Ha un kit medico addosso Io adesso mi teletrasporto lì Perché Boh è crepato Mi teletrasporto su quest'altro E Darà la vita agli amici Non ai nemici Perché Ok 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 Boom Oh mio dio L'ho fatto saltare in aria Grande Mamma mia Che culo Ragazzi Dobbiamo andarci da qui Potrebbero assoggettarci Ok Questa è la vita Si può recuperare Per prendere vita Ma a me non serve Al momento E Lì avevo visto Oh c'è qualcuno lì Bravi ragazzi Sparate Sparate a caso Io prendo le kill Buongiorno lei Si Vai Gattoniamo Gattoniamo Forse non era Il posto giusto Questo Mi sa che ho sbagliato posto Ragazzi Laggiù Io mi muterei Far cadute Ecco Si posso usare Ecco Adesso mi faccio Mamma mia Questa è una provagine ragazzi Una provagine in persona Tavolta col professionista Ok Adesso ho un cecchino No Ho sbagliato classe Va bene Ok Questa è una pistola E questo è un fucile Ma qui i fucili non ce ne vanno un cazzo Per cui Geronimo Mamma mia Che culo Chi è che mi sta sparando Ok sono morto E cecchiniamo qualcuno Ci siamo ritrovati Ragazzi non vi ingroppate Con calma C'è posto per tutti Con calma Si ma che schifo Che vista orribile Togliti Ok Si è tolto Io prenderei quest'altro Perché è più figo Ok E lì ci sono dei cecchini Oh vai Quickscope No un cazzo Quickscope Oh faccio schifo A cecchino Ragazzi Vabbè faccio schifo Da tutte le parti Ma non è per questo Che E' lì E' lì No no Stai fermo con quella mazza da baseball E' lì E' lì da qualche parte E' pompoccio Oh è lì E no sto cadendo Vai spara spara L'ho copito L'ho copito Incredibile Proprio lui Continua Si espogge Troppo Potrei morire Da un momento all'altro Ma Chi c'è Chi c'è qui No Non è mia nonna Ok cazzo Mi hanno inculato Sangue da dietro Ok E io ho un cecchino Oh cazzo Ma questo non è Ma è che forse di merda Mi fai rispaunare amico Va bene Io andrei qui Insieme a Giorgino La pasticcino Andiamo Giorgino pasticcino Esatto No aspetta Giorgino Lì c'è un nemico L'ho visto L'ho intravisto Bravo Bravo Gira strada Qui c'è qualcuno Ah ok Usa anche un mitra Mini mitra Diciamo Mi cecchino Non usa la pistola Ma anche Mi scusi Forse la stavo uccidendo Ma non è Non è questo il caso Ho un cecchino Non ho paura di Ehi Che cazzo c'è laggiù Vai spara Spara per l'amor di Gio Spara No non spara Ma chi è questo Ah ok Mi scusi Alla fine Sì sei morto Moriremo insieme Ma c'è qualcuno qua C'era Ma io Mi misco la carcassa Ehi bastardo Stavo amoreggiando Con una carcassa Non puoi farmi questo Esatto PlayStation PlayStation Grazie a tutti.